Buongiorno Ormezzano, Corriere Torino, volevo sapere la situazione di Alessandro e quella anche di Bernardeschi e se può commentare un po' il momento di Bernardeschi come lo vede, grazie. Alessandro ieri ha fatto tutto con la squadra, quindi dal punto di vista medio sta bene, c'è da capire se la condizione fisica ne ha risentito o meno, però è sicuramente disponibile. Bernardeschi sta bene, è a disposizione, è un giocatore in questo momento molto utile alla squadra perché ci garantisce molto lavoro difensivo, è un ragazzo che ha delle qualità tecniche per cui potrebbe incidere di più sulle partite, quindi gli viene chiesto di crescere da questo punto di vista. Ministro Luca Bianchi in Gazzetta dello Sport, buongiorno, visto che parliamo di persone che recuperano e su cui ci vogliamo accertare e partiamo subito dal più importante è Ronaldo, a che punto è? Se vogliamo farne una questione percentuale, quindi se è disponibile e poi se ci può dare una mano a capire i suoi ragionamenti sui tre attaccanti, mi sembra un mal di testa incredibile per un allenatore che deve farne giocare due soltanto, capire come si orienta. Grazie. Il mal di testa viene a chi c'è un'altra scarsi, a noi no, Cristiano è una risorsa immensa per noi, non so in che misura percentuale sia in questo momento dal punto di vista fisico, l'ultima partita ha fatto bene a livello di resistenza perché l'ho vista nel finale di partita a corso e ha cercato di darci una mano nel momento di difficoltà anche nella fase difensiva, probabilmente deve crescere dopo questo periodo a livello di brillantezza, ma questo è abbastanza normale e l'alternanza davanti mi sembra normale, abbiamo la fortuna di avere tre giocatori di livello mondiale, gli stiamo alternando, stanno facendo bene, è chiaro che sono tre giocatori di una potenzialità enorme, per cui uno si aspetta sempre molto da loro, ma stanno facendo bene. Ma ieri ha fatto un buon allenamento, in parte con noi, in parte su un programma personale, ma ho visto dati ieri sera, abbiamo fatto un allenamento notevole. Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport, restando su Ronaldo le volevo chiedere, visto che con il Sassuolo l'anno scorso aveva trovato i suoi primi gol dopo quattro partite e nel dopo partita disse avevo ansia questo gol che non arrivava, le chiedo se in questo momento lui ha quest'ansia di ritrovare il gol visto che manca da un mese, volevo capire psicologicamente se sente questo peso. Ma questi giocatori abituati a segnare hanno sempre l'ansia di gol, sono abituato a trovare il gol con una grandissima frequenza, per cui per loro è normale segnale, si meravigliano e sempre quando passano una partita o due senza segnare, ma questo vale per Ronaldo e vale per tutti i giocatori abituati a avere cipre importanti di gol. Secondo me è anche un bene e un pizio ce l'abbia, perché chiaramente questo gli dà motivazioni, quindi va benissimo. Buongiorno Romeo Agressi, gol.com, le chiedo come sta vedendo Emre Can e se può essere un'opzione per domani, grazie. Può essere un'opzione, visto che lui in Europa non gioca per motivi di lista, è chiaro nelle partite post-Europa, se ci sono le condizioni per che lui possa giocare, viene fatto giocare come è successo a Lecce. Emanuele Gamber, Repubblica, torno ancora una volta su Ronaldo e gli attaccanti. Volevo chiederle se c'è la possibilità che Ronaldo stia fuori, non dico domani, ma in assoluto anche per una ragione tecnica e non per una semplice ragione di turnover, visto che lei aveva detto fin dall'inizio della stagione che nel Ligue ci sono dieci giocatori che hanno uno status e uno che ne ha un altro. Se visto invece il rendimento dei tre attaccanti alla fine non possa capitare che invece il posto lo perda perché gli altri vanno meglio. E se è vero che non dà mal di testa avere tre attaccanti forti, se alla lunga però non teme che a loro magari venga mal di testa perché se uno fa delle ottime prestazioni e poi non gioca, poi magari rimane deluso e del nervosismo lo matura. La situazione era talmente chiara fin dall'inizio e sta descritta in maniera talmente chiara ai giocatori che non c'è motivo di nervosismo. Quindi la situazione era chiara. è chiaro che Ronaldo è un qualcosa di diverso e inutile pensare che i giocatori siano tutti uguali perché non è assolutamente così. Questi ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui accettano la situazione sono in grado di fare bene. Quindi se non l'accettassero più sarebbe un problema per la squadra ma principalmente sarebbe un problema individuale per loro perché smetterebbero di fare bene. Quindi non vedo una grandissima problematica da questo punto di vista. Buongiorno mister, Francesco Perlino, agenziaria. Da circa un mese stiamo notando una crescita esponenziale di delit. Il tempo giusto che è arrivato Barzagli nel suo staff. Volevo chiedere se è una coincidenza o si sta effettuando un lavoro specifico sul ragazzo. Grazie. Ma è chiaro che Barzagli è una risorsa perché se si parla di una fase difensiva a livello individuale Barzagli può insegnare tantissimo perché sta un difensore straordinario proprio dal punto di vista della tattina individuale oltre di quella collettiva. Quindi è chiaro i nostri difensori al di là del lavoro che si può fare sul campo è pochissimo purtroppo perché giocando ogni tre giorni non è che si può lavorare tanto sul campo ma se si mette a sedere un quarto d'ora a vedere un firmato o un Barzagli possono venire fuori cose interessanti. Poi al di là di Andrea c'è il fatto che il ragazzo comincia ad abituarsi al nostro modo di giocare, al modo di giocare del nostro campionato e tutto il resto. Che questo aveva qualità immense era abbastanza evidente. Salve Antonio Barragli alla stampa. Volevo chiedere, abbiamo parlato molto d'attacco, se in difesa invece ha previsto qualche turnover per far rifiatare qualcuno. Poi avrei un'altra domanda se posso farla. Vediamo la situazione complessiva di chi può avere bisogno di riposo. La situazione è che Quadrado è fresco perché ha riposato nell'ultima partita martedì. Alessandro è in recupero. Non so se sia pronto per i 90 minuti ma è sicuramente in recupero perché ieri ha fatto tutto. E poi vediamo la situazione dei centrali, chi dei due, se c'è uno dei due che è uscito peggio. L'altra cosa che volevo chiedere è sempre relativamente alla convivenza fra i tre attaccanti. Premesso che è chiaro come la gerarchia con Ronaldo in toccato. Sì, però domani non è che si giova fra di noi. Si giova tra di stesso. No, certo. Ma io volevo chiedere una cosa un po' più ampia, mister. Ma nel chiuso della continassa sta sperimentando sempre più come farli giocare tutti e tre oppure ritiene che questo sia di fatto impossibile se non un'ispezione di partita? Grazie. Nel chiuso della continassa noi dall'ultima settimana ad agosto fino alla prossima abbiamo sempre avuto i tre impegni la settimana. Quindi se considero che i 48 ore i giocatori scariano e poi c'è da preparare una partita non è che ci sia tempo per tanti esperimenti. Per esperimenti intendo allenamenti veri perché provarli in un allenamento blando non significa assolutamente niente. Per giocare tutte e tre insieme è problematico. Ma è problematico per le aree attristi dei tre giocatori perché giocare a tre punte significa avere un attaccante centrale e due attaccanti esterni e non è il caso nostro. E per giocare in uno o due significa avere un trequartista e due attaccanti centrali e non è il caso nostro. Quindi non è assolutamente semplice per le caratteristiche dei tre. Poi è chiaro che nei momenti di necessità sarà fatto. Nerozzi e Ferrero. Buongiorno Nerozzi, Corriere del Torino, Corriere della Sera. Una volta ho una domanda su Rabiot. Lei rispose che Rabiot deve pensare che Matuidi è un giocatore molto forte. E chiedevo se è la stessa cosa che deve pensare Emre Can degli altri centrocampisti visto che è quello che ha l'impiego minore in campionato o se ci sono anche delle altre valutazioni. Grazie. Ma se le altre valutazioni dipendono tutto da quello che chiede ai giocatori quanto i giocatori riescano velocemente a darti quello che gli chiedi quindi può darsi che le valutazioni che vengono fatte in un momento della stagione non siano più le stesse se le rifai dopo sei mesi perché certi giocatori si sono assoggettati al modo di giocare e altri fanno fatica a quel modo di giocare. Se le scelte ho fatto sono andate in quella direzione è perché in questo momento penso che gli altri si siano assoggettati più velocemente. Chiudiamo con Ferrero. Buongiorno mister Fabrizio Ferrero Mediaset Devo dire due cose veloci. La prima un regalo per lei, una domanda sul Sassuolo visto che così mi tengo poi l'altra per me. È una di quelle partite che possono creare più problemi di altre. Lei dice spesso che ci sono alcune partite che si preparano da sole per l'importanza dell'evento, per l'avversario e per tutto. Qui si può rischiare di sottovalutare una squadra come il Sassuolo anche perché c'è una statistica in casa, fuori dalla Juventus, ha sempre vinto. C'è un insidio in più? No, la partita è pericolosissima perché noi veniamo da una partita di campionato che era palesemente difficile e in cui abbiamo spesso e quando parlo di spendere parlo più di energie nervose e mentali e non delle fisie. Le partite dei Champions, come sempre, sono partite dispendiose. Non a caso dopo le ultime due partite di Champions abbiamo giocato a Lecce e Casano entrò in Milan e abbiamo sofferto. Quindi è una partita difficile anche perché il Sassuolo ha dei numeri nell'espressione tattica delle partite nettamente superiori a quelle che poi sono i punti A in classifica e la posizione della classifica. È una squadra che gioca tantissimi palloni, è una squadra che anche in trasferta va al tiro con grande facilità. Mi sembra che abbia una media vicina a 15 tiri a partita, quindi è una media di 45 palloni giocati dentro l'area avversaria a partita in trasferta. Quindi i numeri di punti non corrispondono a quello che il Sassuolo sta esprimendo in campo. Allenatore giovane ma allenatore forte, e questo non lo sto dicendo oggi ma l'ho sempre detto perché anche a una domanda in Inghilterra, quando mi chiesero degli allenatori italiani giovani su chi avrei puntato, io risposi Roberto De Zerbi perché è un allenatore a grandi idee, poi dovrà fare chiaramente un percorso, è giovanissimo, ha tanto tempo per farlo e diventerà un grande allenatore sicuramente. Grazie Ministro. Velocemente una cosa sul pallone d'oro, Ronaldo sembra che lo vinca Messi, Ronaldo meritava più rispetto e Di Bala potrà vincere il pallone d'oro se continua così? Ma io non lo so chi vincerà il pallone d'oro, chiaramente se lo chiedi a me io penso e spero che lo vinca Ronaldo, se poi non è così mi dispiace perché è un giocatore di un livello e sarà sempre l'Izza per il pallone d'oro. Spero che De Ligt possa contendere la vittoria per quanto riguarda i giovani, spero che Di Bala in futuro sia un pretendente serissimo, una candidatura estremamente seria per il pallone d'oro. Anche se a me i premi individuali sinceramente scusate per l'ategoria ma soprattutto se vengono dati a giornalisti mi interessano veramente poco. Grazie a tutti, buona giornata. Più strane? Per i giornalisti. Grazie a tutti, buona giornata.